Gli uffici dell'osservatorio elettorale del Consiglio regionale hanno predisposto una seconda proiezione fatta sulla base del 60% degli scrutini, una proiezione che assegna i 40 seggi complessivi del proporzionale in questo modo, 21 alla maggioranza e 19 all'opposizione. I 21 della maggioranza andrebbero 17 al PD, di cui 8 su Torino, 2 su Cuneo e Alessandria e 1 ciascuno nelle province di Asti, Biella, Novara, Verbania e Vercelli. Inoltre la maggioranza potrebbe contare su due esponenti della lista civica per Chiamparino, uno a Torino e uno a Cuneo, un esponente dei moderati e un esponente di SEL, entrambi in provincia di Torino. Veniamo invece all'opposizione, che si dividerebbe i restanti 19 seggi. Forza Italia ne avrebbe 6, di cui 3 a Torino e uno ciascuno nelle province di Alessandria, Cuneo e Novara. Fratelli d'Italia avrebbe un solo seggio a Torino, naturalmente. La Lega Nord avrebbe 3 seggi, di cui uno a Torino, uno a Novara e uno a Cuneo. Però qui bisogna fare un'osservazione, perché a carico della maggioranza, composta essenzialmente da Forza Italia e Lega Nord, dovrebbe trovare spazio anche il candidato presidente, appunto Pichetto, che prenderebbe uno dei tre posti della Lega, in particolare quello di Novara. Infine il Movimento 5 Stelle, l'altra opposizione, che avrebbe confermati 9 consiglieri, di cui 5 a Torino e uno ciascuno nelle province di Alessandria, Asti, Cuneo e Novara. Ultimo, Fratelli a fare il seggio, Fratelli d'Italia, con un consigliere in provincia di Torino. Mentre invece, sulla base di questa proiezione, sulla base dei dati ancora in questo momento che emergono, la lista Nuovo Centrodestra Udc non supererebbe lo sbarramento e non avrebbe alcun consigliere. A questi consiglieri si devono aggiungere quelli del listino, 10 più il presidente, quindi i 51 consiglieri della decima legislatura sarebbero così suddivisi. 32 alla maggioranza, 19 all'opposizione.